Gecko's Garage Buon Halloween! Va tutto bene, meccanici! Sono solo io, Gecko! Aspettate un momento! Cos'è questo rumore spaventoso? Eccolo di nuovo! Spero che non sia... uno spaventoso fantasma di Halloween! Qualunque cosa fosse, credo sia andata via! Cosa? Oh no, meccanici! Ho paura che l'oppicina sia... infestata! Oh! Blu! Ehi, un momento! Blu! Fa un passo avanti! Il rumore si sente solo quando tu ti muovi! Bene! Niente panico, brividi e urla! È la ruota di Blu che cigola, quindi non è nulla! Uno spruzzo d'olio per togliere il cigolio... e possiamo dire... fantasma addio! Oddio! La paura è passata! Ora possiamo andare a fare dolcetto o scherzetto! Buon Halloween a tutti voi! Ciao! Ciao! Siete davvero bellissimi, meccanici! Siamo pronti per festeggiare Halloween! Ehi, anche Tilly è arrivata! Che cosa succede, Verde? Che cosa? C'è un mostro qui fuori? Sarà meglio controllare! State tranquilli, meccanici! I mostri non esistono nella realtà! Ciao, chi sei? Ciao! Va tutto bene, amico? Vieni alla luce! Oh, cielo, Max! Hai bisogno di una bella ripulita! Forza, vai all'autolavaggio! Non dovete preoccuparvi, meccanici! Ricordate, i mostri non esistono nella realtà! Quando sei pronto, Max! Ecco fatto, Max! Così non spaventerai più nessuno! Buon Halloween a tutti, amici! Che belli i vostri costumi di Halloween, meccanici! Siete pronti per fare dolcetto o scherzetto? Mi dispiace, devo finire di fare il cambio dell'olio a camioncina! Voi intanto andate, vi raggiungo tra poco! Dolcetto o scherzetto? Non vi darò nessun dolcetto, se prima non mi spaventerete! Io non ho paura proprio di niente! Principianti, che peccato dovrò mangiarmi questi dolcetti tutti da solo! Siete già tornati! Oh, mi dispiace tanto! Ehi! Che cosa c'è, camioncina? Sì, questa è un'ottima idea! Saranno altri mostriciattoli mangiatori di caramelle? Lasciatevi in pace! Non voglio nessun... Ottimo lavoro, camioncina! Sei riuscita a fargli prendere un bello spavento! Felice Halloween, amici! Ciao a tutti! Eric, l'escavatore, è qui per la revisione! Deve essere in forma e in salute per tutti gli scavi che deve fare! Chi vuole aiutarmi? Io credo che sceglierò... Gialla! Lo so che vuoi giocare, ma sono sicuro che ti divertirei ugualmente anche lavorando! Iniziamo dando un'occhiata al tuo motore, Eric! Da una bella e sonora sgasata! Puoi fare meglio di così, Eric! Gran bella presa, Gialla! Ora passiamo a controllare i tuoi cingoli, Eric! Ultima parte della revisione, Eric! Ora vediamo come sta il tuo braccio escavatore! Uh! Serve un po' di olio, Gialla! Molto bene, Eric! Hai superato la revisione! E ora sei pronto per molti altri scavi! Ti vuoi unire a loro, Gialla? Te l'avevo detto che ti saresti divertita! A presto con nuovi lavori e divertimento qui all'officina di Geko! Ecco fatto, Eric! Va meglio adesso? Cos'era quello? Oh, è Max, il Monster Truck! Non dovrebbe giocare qui! I cantieri edili sono molto piccolosi! Guardate quanti posticci sta combinando! Oh, no! Max ha finito la benzina! Dobbiamo tirarlo fuori prima che il cemento si solidifichi! Veloci, meccanici! Prendete una tanica di benzina! Oh, cielo! Il cemento diventerà duro in meno di un minuto! Come posso fare a portare questa tanica di benzina fino a Max? Oh, Eric fa da ponte! Oh! Il cemento si è quasi solidificato! Vai, Max! Vai! Vai! Sembra che Max abbia imparato la lezione! Grazie, Max! Un'altra emergenza è risolta! Alla prossima volta! Ciao! Ora, Max! Che cos'è questo rumore super fastidioso? Ottimo atterraggio, Max! Quelle nuove molle di sospensione ti hanno aiutato ad atterrare dolcemente! Non ci sarà bisogno del piano di riserva, giusto, Rosso? Ora devo solo fare un ultimissimo ritocco! Anche tu vorresti essere come tuo fratello, vero Molly? Resta qui! Arrivo! Ti monterò delle molle di sospensione di gran lunga migliori di quelle di Gekko! Sta a vedere! Ho quasi fatto, Max! Ma che succede? Salta più in alto di quanto mi aspettassi! Oh, no! Molly sta saltando un po' troppo! Dobbiamo fermarla subito! Presto, Rosso, il piano di riserva! Sei pronto, Rosso? Adesso attiviamo il piano di riserva! Ora va tutto bene, Molly! So che volevi solo essere come tuo fratello maggiore! Sistemiamo quelle molle, va bene? Vai, Molly! Gekko, credo di poter montare delle molle migliori delle mie! Queste nuove molle ti faranno atterrare come si deve! Ci vediamo presto, Molly! Ora puoi andare a divertirti! Ecco fatto, Eric! Adesso il tuo braccio è tornato come nuovo! Meccanici? Cosa state facendo? Oh, ho capito! State cercando il tesoro dei pirati! Ahoi! Bravi, marirai! Che cos'era questo rumore? Eric ha trovato qualcosa! Forse è proprio un tesoro sepolto! Che cosa potrebbero essere? Oh, gialla! Anche se questo non è oro, non significa che non sia comunque un tesoro! Questo è un vecchissimo carretto ferroviario! Ma... Credo che manchi un pezzo! Wow! Eric ha trovato anche i vecchi binari! Forza! Provate ora, meccanici! Visto? Solo perché qualcosa non è d'oro o d'argento non significa che non sia un tesoro! Buon divertimento, meccanici! Hai ragione, verde! C'è un incendio! E sembra che Fiona l'autopompa stia già arrivando! Oh no! Mamma camion e camioncina giocano a fare una gara! Fanno troppo rumore! Non sentono la sirena di Fiona! Fiona! È ora che tu abbia una sirena più potente! Venite, meccanici! Montiamo la nuova sirena di Fiona! Ecco qua! Ci serve un Nino Nino! Bello forte! Ci siamo? Fa una prova, Fiona! Ma no, non va bene! Suona come un campanello! Proviamo ancora! E questo sembrava un dinosauro! Ci serve un Nino! Questo è un Nino! Ma deve essere ancora molto più forte! Hmm... Quel cono del traffico prima ha amplificato il suono! Forse qualcosa del genere funzionerà con la sirena! Questo sì che è un sonoro Nino! Ciao, Fiona! Grazie per essere venuta all'officina di Geko! Ehi! È Max! Il Monster Truck! Che possiamo fare per te oggi? Oh! Vorresti somigliare al tuo eroe, King Crush! Credo che si possa fare, Max! Ora prendo i miei attrezzi! Meccanici! Intanto iniziate voi! Iniziate voi! Iniziate voi! amedia! Sì, sì. Ecco qua! Ho preso tutti gli attrezzi! Meccanici! Che cosa avete fatto? Oh, per voi sarà anche fantastico così! Ma non è quello che Max voleva! Non preoccuparti, Max! Sistemeremo tutto! Ecco fatto, Max! Era questo che volevi? Un altro cliente soddisfatto all'officina di Gekko! Ci vediamo presto! Ciao a tutti! Oggi siamo indaffarati! Camioncina e Max sono venuti a fare il cambio gomme! Ma dov'è Max? Ciao, Max! Svelti, svelti, meccanici! Gialla! Gialla! Ha battuto forte la testa! Quindi tocca a voi, blu e rosso! Per mille bulloni svitati! Andiamo! Gialla! Sembra che abbiate confuso le gomme! Non fa niente! Tutti possiamo sbagliare! Dobbiamo solo cambiare di nuovo le gomme! Oh, non preoccuparti, Max! Presto riavrai le tue! Camioncina! Sappiamo che ti stai divertendo! Ma quelle sono di Max! Gliele vogliamo ridare adesso? Ah, brava camioncina! E' molto importante restituire sempre le cose prese in prestito! Ci vediamo presto! Ciao! Ecco, ho finito, Fiona! La tua nuova scala è pronta! Cat! Sta' attenta! Hola, Giacco! Io ed Elena ci esercitiamo a fare delle acrobasie! Guarda come siamo brave! E ora guardate questa! Sta' attenta, Cat! Oh, no! Da quella parte! Stai bene, Rosso? Giacco! Sarà impossibile afferrare senza gli sci! Oh, no! Presto, meccanici! Dobbiamo aiutarla! Per favore, andate a prendere quelle ruote! Puoi avvicinarti un altro po'? Ci sto provando! Ci sto provando! Oh, no! Resisti, Giacco! Blu, prendi gli sci! Mi è venuta un'idea! Adesso, Blu! Per fortuna, siamo riusciti ad atterrare! Muchas gracias per l'aiuto, Giacco! È stato un piacere, Cat! Fa tutto parte del servizio! Mi passeresti una chiave inglese, Blu? Non è una chiave inglese, Blu! È un cucchiaio di legno! Questa mi sembra camioncina! Mi chiedo per cosa sia così elettrizzata! Ah, le ruote di Weasel ha il piacere di presentarvi il suo nuovo fantastico elettromagnete! Oh, oh! E ora come si spegne? Oh, oh, no! Oh, no! Il signor Weasel ha problemi calamitosi! Va tutto bene, Giacco! E se solo tu staccassi la corrente girando quel bullone lì? Blu! Fermo! Un magnete attira tutto ciò che è fatto di metallo! Oh, no! Meccanici! Oh, lo so, mamma riciclo! Devo staccare subito la corrente! Ma non posso usare strumenti di metallo! Ma certo! Il cucchiaio di legno! Va tutto bene, amici! Con un po' di ingegno... Vi libero grazie a un cucchiaio di legno! Oh, quella Giaccio non funzionerà! State tutti bene? Oh, fantastico! Noi ci vediamo presto per altre avventure all'Officina di Giacco! Ciao! Bentornati all'Officina di Giacco, amici! Abbiamo appena installato un sistema d'allarme di emergenza! Eh? Lì qualcuno deve essere nei guai! Svelta, svelta! Tigli il carro a trezzi! Eric l'escavatore! Credo abbia colpito una roccia! Guarda! Uno dei suoi cingoli è fuori uso! Oh! Oh, Blue! So che la tempesta fa paura, ma serve il tuo aiuto! Sarai coraggioso per noi? Oh! Non ci arrivo! E sono troppo grosso per passare lì dentro! Oh! Oh cielo! Ci dobbiamo sbrigare! Penso che quella diga stia per cedere! Blu è abbastanza piccolo da passare! Molto bene, Blue! Sei davvero molto coraggioso! Oh no! Diga, sto cedendo! Sbrigati, Blue! Oh! 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 Complimenti, Blue! Hai affrontato le tue paure! E guardate! Un arcobaleno! Saluti a tutti da Geko! Ciao! Siamo quasi all'officina, meccanici! Wow! Qualcuno sta lasciando rifiuti lungo la strada! Ce ne sono tantissimi! E Mamma Riciclo non sembra contenta! Andiamo! Se seguiamo la scia, scopriamo chi li sta lasciando! La scia va a sinistra! È Dylan! Il camion dei rifiuti! Con il portellone rotto sta perdendo i rifiuti! Ma la musica è così alta che non se ne accorge! Meccanici! Bisogna abbassare il volume della musica! Risolviamo la situazione con il riciclaggio! Utilizzare le cose usate è un vantaggio! Dylan! Dylan! Il tuo portellone è rotto! Ma non preoccuparti! Lo aggiusterò io! Mentre Mamma Riciclo e i meccanici smistano i rifiuti! Oh, ecco fatto! Come va la raccolta differenziata? Noi ci vediamo presto per altre avventure all'oppicina di Geko! Dylan! Va più piano! Siate bravissimi meccanici! Per tutti i cacciaviti a croce! Sembra che qualcuno stia piangendo! Oh, guardate! Ci sono Maxi, il Monster Truck e sua sorella più piccola, Molly! Andiamo ad aiutarli! Ciao, Max! Ciao, Molly! Ah! La giostra a girello non gira più! Tranquilla, Molly! La faremo girare di nuovo! Guardate! C'è la famiglia Camion! Ciao, camioncina! Ti serve aiuto per far volare l'aquilone? Forse mi è venuta in mente un'idea! Meccanici, ci serve un po' di olio e una chiave inglese! Molto bene, meccanici! Ora spingete! Per tutti i bulloni mi gira la testa! Vediamo se ho avuto una buona idea! Siete pronti, meccanici? Fate piano questa volta! Funziona! Ottimo lavoro, meccanici! Ah! Bene! Si stanno divertendo tutti! Tic-tac-tac-tac!